Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La nuova settimana è iniziata con ancora qualche rovescio, soprattutto tra ferrarese e nel corso della giornata sulla Romagna, ma la situazione sta migliorando. Infatti l'alta pressione tornerà protagonista nella giornata di martedì, che sarà splendida su tutta l'Emilia-Romagna. Infatti i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi ovunque, con solo qualche addensamento al mattino, ma senza alcuna precipitazione. Le temperature minime scenderanno nuovamente, saranno comprese al primo mattino su valori tra 10 e 17 gradi, mentre i valori massimi saranno in levamento e compresi tra più 22 e più 24 gradi. Ventilazione debole, mare calmo. Poi dalla giornata di mercoledì aria più fresca da est inizierà ad affluire sulle alte quote, determinando un progressivo aumento della nuvolosità. Attenzione perché tra giovedì e domenica venti sempre più freschi provocheranno un crollo termico con una possibile fase di maltempo, soprattutto tra venerdì e la giornata di sabato. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Grazie.